Jessica Alba Jessica Alba, beauty look semplice e onest Jessica Alba, beauty look semplice e vincente per onest Pochi tratti di makeup e il beauty look di Jessica Alba, semplice e super onest, è pronto, la bellissima attrice sta per diventare mamma triste e, forse, anche la particolare luce che imana il suo viso è dovuta a questo meraviglioso stato di grazia Jessica è bellissima, non c'è che dire, il viso è meravigliosamente scolpito da tocchi di fondotinta e terra, per dare risalto agli zigomi e attenuare la zona T, ovvero quella composta da fronte, naso e mento, mentre gli occhi sono delicatamente definiti Il suo makeup artista ha scelto di dare maggiore spessore alla rima superiore, utilizzando una linea decisa di eyeliner nero, più sottile a partire dallinterno del viso e più marcata a uscire, sulla coda dellocchio dellalba Le ciglia? Jessica le ha naturalmente lunghe e folte, un marchio di fabbrica del tutto originale del suo sguardo sensualissimo e candido allo stesso tempo, ma in questo caso osa di più, il mascara conferisce più volume e definizione allo sguardo Completano le iemache a pombreggiature ambrate, sapientemente scelte tenendo conto dello splendido colore olivastro ed esotico dellincarnato dellattrice, che danno profondità agli occhi, con pennellate sulla palpebra mobile e fissa e una linea sfumata sotto la rima inferiore Passando alle bocca, leffetto è quasi nude, ma il tocco di lipstick rosa confetto c'è, il gloss evidenzia con delicatezza il volume naturale delle labbra di Jessica Alba Anche questo un tratto singolare e super sexy che la contraddistingue dallinizio della sua carriera, quando era soltanto un adolescente e il grande pubblico ha imparato ad amarla come Maya Graham, protagonista del telefilm Le avventure di Flipper Da lì, di strada, ne ha fatta tantissime e ora è un'attrice affermata, una futura mamma tris e una donna in carriera con progetti importanti, come quello di The Honest Company. The Honest Company, l'idea eco-friendly di Jessica Alba Dopo la nascita della sua prima figlia, Honor Marie, Jessica si è resa conto che in commercio non c'erano molti prodotti per l'infanzia, soprattutto riguardo l'igiene intima, che non contenessero sostanze chimiche derivate dal petrolio Decise, così, di dare vita a un gigantesco progetto per lanciare sul mercato prodotti eco-friendly, che fossero il più naturali possibile ed eco-sostenibili, con un occhio anche al rispetto per l'ambiente Jessica, quindi, ha fondato The Honest Company, compagnia che è cresciuta tantissimo dagli inizi e che ora si occupa della produzione di tantissimi articoli afferenti non solo all'igiene dei bambini, come pannolini lavabili e creme per il corpo, ma anche alle pulizie domestiche e all'alimentazione dei neonati Inoltre, c'è una sezione tutta dedicata al make-up, Honest Beauty, che ha ricevuto un grande riconoscimento, il coral kiss, uno dei suoi rossetti senza parabeni più indossati, ha vinto l'Allure Best of Beauty Award. Quali saranno i prossimi successi? Quali saranno i prossimi successi?